allora adesso siamo davanti alla chiesa è un po conciata la chiesa avrebbe bisogno di un po di manutenzione in realtà è stata rifatta la piazzetta qui è stato fatto un bel lavoro mi ricordo c'era una pianta qui però vediamo un attimino di capire ecco vedo dei gradini che sono dei gradoni in realtà sì certo uno se deve salire sale da questa parte però se anche uno sai da questa parte poi il gradino è esagerato non so un anziano una mamma con la carazzina da dove sale probabilmente fa il giro dall'altra parte adesso ci giriamo intorno probabilmente fra il giro dall'altra parte è stato fatto un bel lavoro è indubbiamente quello che si deve dire si deve dire ecco di là c'è l'accesso per per le carazzine